buongiorno a tutti eccoci qui in questo nuovo video sono andata a fare un piccolino acquisto anzi un piccolo acquisto sono andata a mille piedi e a cambiare un paio di scarpe che mi avevano regalato ma come numero non mi stavano bene e adesso vi faccio vedere con i soldi delle scarpe che mi hanno regalato ne ho presi due paia allora prima di tutto queste sono meravigliose mi piacciono tantissimo ma proprio tanto dal viola al blu mi piacciono un sacco ma davvero tantissimo ma davvero tantissimo e sono meravigliose e quando l'ho vista mi sono innamorata subito ho guardato che c'era il mio numero siccome che io porto il 41 41 e mezzo e mi piaceva un casino e poi comunque costavano 25 50 con i soldi che ci sono l'ho pagate solo 20 euro e 50 sono le madigan cioè sono un ottimo paio di scarpe poi ho preso quest'altro paio sempre madigan fatte così anche queste sono bellissime dal bianco al rosa anche queste mi piacciono molto direi davvero mi piacciono tantissimo sono stata fortunata a trovare tutti e due le paia di scarpe 41 non è così semplice per chi porta questi numeri grandi trovare delle scarpe diciamo decenti poi sono molto difficile nei gusti di scarpe e anche queste 41 e stessa cosa l'ho pagato sempre 20 e 50 poi per non essere contenti siccome che dal prezzo delle scarpe che mi hanno regalato prendendo queste due paie di scarpe avanzava sempre nei soldi allora ho preso due paie di collant per la mia bimba sono queste qui blu con le righe nere con tutti i brillantini vedete sì dai 2 ai 12 anni questa la taglia 8 10 anni perché la mia bambina è molto alta e quindi porta 8 anni anche se ne ha due e mezzo però lasciamo perdere vedete sono fatte così sono molto belle e anche queste le ho pagate 3 90 e poi ho preso queste qui semplici grigie e adesso aspettate che come qua stavo dicendo e siccome che mi avanzava ancora dei soldi ho preso le bolle queste qui per la mia bambina così si diverte un po cifre ballerine e niente questo è il mio piccolo acquisto sono molto soddisfatta spero che a voi vi piaccia se avete se avete qualche consiglio o parere scrivetemelo pure qua sotto in un commento se vi piace questo video lasciate un bel like e iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video ciao